Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Bones Channel Oggi ragazzi siamo qui, in questo nuovissimo video su Clash Royale Andiamo ad aprire un baule omaggio che nella scorsa volta abbiamo trovato la principessa Ma stavolta sicuramente non troveremo niente, perché che cacchio è? Non troveremo niente, quindi andiamo ad aprire questo bel baule E infatti due scelte Allora, adesso ho visto una News Royale Radio Royale, vabbè questo lo vedrò dopo Watch the finals, va bene Sperate, è terminata Allora ragazzi stiamo per retrocedere con questo mazzo E oggi ci creeremo un mazzo tutto in live Allora, direi di metterci Direi di metterci la principessa Perché è obbligo raga Al posto delle stratture Poi Spiritelli del fuoco al posto di questo Poi direi di metterci il golem di ghiaccio Al posto della furia Poi di mettere la torre infernale se è possibile Torre infernale Poi di mettere il cavaldiere per fermare i barbari scelti No, 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 teniamo già il golem di ghiaccio E in questo caso mettiamo il bombarolo Sinceramente No, no, non può mai funzionare nella vita Quindi ci mettiamo Ah, io mi volevo fare un deck con i tre moschettieri Infatti oggi ce lo faremo Perché i tre moschettieri io non li uso mai Quindi Direi di metterli al posto della torre infernale Poi Metto la furia Al posto del gigante Poi metto la lapide La lapide Al posto della gelo Questo è il deck con i tre moschettieri ragazzi Il sogno è molto molto buono E infatti oggi Questo oggi lo andremo a provare Allora Direi di andare Subito Ehm Dopo abbiamo subito come manno I tre moschettieri Quindi Direi di partire con una nice golem E qui da dietro Aia Mastino lafico Vabbè penso che con questo deck Il mastino lafico Non sia un gran problema Speriamo Perché è al 2 Ehm Ci mette quello E noi gli mettiamo questo Aia ragazzi Aia ragazzi Aia ragazzi Qui è un problema Aia Aia Non mi uccideremo schettieri Se non ho tuccido Io a te Attenzione ragazzi Attenzione Abbiamo apprezzato un sacco di roba Vai ragazzi Vai Torre giù Torre giù Dai Ok ragazzi Questo deck è devastante Ehm Vabbè siamo contro il livello 7 Ragazzi Questo deck è davvero Ma davvero Devastante Stavo pensando di mettere anche L'estrattore Mi ho detto che era Secondo me Era molto Molto inutile L'estrattore è lì Quindi non l'ho messo Ehm Ragazzi Siamo a 1 minuto e 46 Già gli ho fatto la torre Quindi perfetto Ehm Gli ripiazziamo I tre moschettieri Ehm Ma stavolta Mettiamo Se non mi mette niente Mettiamo la lapide Ehm Ok Casomai Sì Oh Anche lui Anche lui Allora gli mettiamo questo Oh ragazzi 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 Bummate Eh ragazzi Ci ha fatto la torre Va bene Fa niente Non fa niente 1 a 1 Mannaggia Me li hanno nascosti All'ultimo Questo birbantello Mamma mia Allora Andiamo a mettere Ehm Qui questi Eh però basta C'è cacchio Mettiamo questo Poi questo Poi andiamo a mettere questo Bombarolo Guardali 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 La principessa Che va Mh Mi piace Mi piace sta roba Vai ragazzi Perfetto Ottima difesa Ragazzi Sprecate i tre moschettieri Eh Questo per me è un gran vantaggio Due principi Da qui Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi il devasto Dai ragazzi Il devasto Il devasto Dai E' fatta Non ci credo No Come Che faccio No raga C'è no No Per cento due Di vita No Non fatemi scherzi Non fatemi scherzi No 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 Io non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Mamma mia Ragazzi Mamma mia Che rabbia Io non ci credo Dai Centosei divisa No Vabbè Allora ci mettiamo La sfera infuocata No Perché Non è possibile La furia Non ci è stata utile Infatti Ora ce la troviamo E proviamo adesso No Cioè Ragazzi Se perdiamo questa Addio Arena 8 Dai Allora Strattura Metto i tre muschettieri Poi metto La principessa Sì la principessa Poi Se lo riesco a mettere Il bombarolo Dai Uccidetela Dai Dei colpi Non ci credo Mi ha ucciso La principessa Mi ha ucciso La principessa Tiene la Zappa Di Gesù Tu sei livello 8 Ci credo Cioè Tiene le frecce Quanto un razzo Mettiamo Sto qui Qui Eh Vabbè Il golem Il golem Il golem Mettimi qualcosa Dietro Guardi Mettimi una strega Tanto lo so Che mi metti la strega Ecco Come la fermo Quella roba Chi lo saprà Metto questo Che lo so Che non durerà Per tanto Da dove lo prende Tutto sto elisir Ci vuole questo Vai 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 Buona Buona difesa Buona difesa Uccidetela No Non ci credo Non è rimasto Vivo Cioè Non sono rimasti Vivi Due colpi Eh Va bene Mettiamo questo Sette Otto Nove Ok Settiamo Sette Otto Nove Poi Vai ragazzi Muovetevi 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 Vi dovete Muovere Vi dovete Muovere Vi dovete Muovere Vi dovete Muovere Sì 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 Buono 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 Dai ragazzi Dai 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 Vai Vi voglio Vi voglio Vi voglio Vi voglio Vi voglio Vi voglio Non ci credo Levate sta roba Eh Non ci credo Perché no Queste cose Quanto le odio Io Non riesco a vincere Non ci sta niente da fare Vabbè ragazzi Arena Sette Dai Un altro Golem Possibile Impossibile Muovete Lord Di scheletri Eh Vabbè Guarda Sta roba Guarda Che me le uccide Mamma mia Guarda Che Muovete Uccido Guarda Devo uccidere Ti devo uccidere Ti devo uccidere Ti devo Eh vabbè Vai 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 Spara 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 Eh dai Spara Più veloce Eh Sì Si è messa davanti Io godo male Guarda Che io lo sapevo No raga Non si può fare Ma cosa Non è possibile Non è possibile Uno a uno Va bene Però Dai Ci credo Ma Ma Niente Non mi capiterà Mai più niente Guarda Cioè È incredibile Allora Cerchiamo di fare Qualcos'altro Questo video durerà Un tanto Ma fa niente Cioè Metto i tre moschettieri Lo so che me la rischio In caso Mi metto il golem Di ghiaccio Non mi morite Vero Non mi muoiono Perché sono fortissimi Uno mi è morto Per sfortuna Per Fortuna Zappa Eh Vabbè Danni Mettete Pispi Eh Vabbè Guarda Non ci credo Mettiti Madonna mia Mi hanno buttato giù la torre I barbari scelti Ovviamente Guarda Guarda quanti danni Vabbè Ragazzarina Sette Madonna Che rabbia Però Dai È impossibile Ci credo Eh Guarda Guarda La veleno Zappa Mamma mia Eh Lo stregone Ma quanto bello Si intiene Questo Amma mia Ma è capace Pure che mi mette Barbaricelti Non parole Che cazzo Mettiamo questo E ma Metti Barbaricelti Ti pareva Ti pareva Che non metteva qualcosa Ti pareva Ti pareva No Io Non dico niente Zappa Vabbè ragazzi Abbiamo perso Quindi Non c'è Il risulto Dai 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 Ma io devo mettere Tanta di quella roba No Si deve avvilire Guarda Guarda Vai Oh Dai E non Non era Possibile Non era Possibile Veramente Guarda Queste Sono difese Cacchio Queste Mamma mia Lì Che pensi Di fare Finisce La veleno Finisce Il veleno Ok Adesso Direi Di mettere Questo No Guarda Che lo stagone Giratevi Invece Di fare Le cretine Guarda Che mi butta Giù Le torri Con La roba Lì Zucca Si Si Ragazzi E' finita 118 Di vita Vabbè Ragazzi Questa La dovevamo Perdere Quindi Ragazzi Il video Finito E qui Se vi è piaciuto Lasciate like Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo A un prossimo video Ciao ragazzi